Fancy Native, una nuova serie di canne del mondo raptor destinata alla pesca trotta torrente. Realizzata in quattro misure, 6 piedi 3 1,90 con un casting di 1,5 grammi, 6 piedi 6 2 metri con un casting di 2,8 grammi, 7 piedi 2,13 per un casting di 2,12 grammi, 7 piedi 3 con una lunghezza di 2,20 e un casting di 3,15 grammi. Realizzata in carbonio CX1 con un blank super slim, quindi un busto molto molto sottile, anelli SICK con profilo K ante groviglio adatto all'utilizzo sia di monofili che di tracciati, manico sughero che vi ha sdoppiato, una canna che vi invito a provare. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS